...degli Imagine Dragons. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi. ...degli Irregolari Famiglia. ...degli Amministrazione più Moderna. ...degli Proteggi Antipotonesi da progetti e secchi. Mi sono sempre chiesto, ma scusa, quando ho fatto Titanic, io Titanic non l'ho visto, e mi sono rifiutato a chiederlo. ...degli Amministrazione, la canzone perché puoi vietarmi? ...degli Amministrazione. ...degli Amministrazione. ...degli Amministrazione. ...degli Amministrazione. ...degli Amministrazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.